di aldo busi a il casto sua moglie e l'innominabile o voi cavete l'intelletti sani mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli segni strani dante allighieri inferno canto nono giacomelli mi sfugge dalla bocca e lei girandosi cosa fringuelli cip cip da ciucca questo nome non mi è nuovo e questa immagine in bianco giglio e nero tonaca neppure ma non è quel fotografo che nel 1962 oh no nel 63 mise un toscanello in bocca ai più sprovveduti e perciò non a me che fece ora a gara a chi tirava di più e faceva i cerchiolini di fumo più grossi e che poi fu cacciato dal rettore lui con tutti i suoi scatti suavemente blasfemi io girai alle larghe per tutto il tempo che lui rimase lì in seminario a curiosare e a inquadrarci negli aspetti più triviali della nostra giornata di novizi non volevo essere fotografato per la stessa ragione che mi ha sempre portato lontano dagli specchi e dai loro mendaci riflessi dopo la faccenda dell'uccellino giallo e verde ma una volta questo giacomelli mi colse alla sprovvista o forse non proprio un po' me l'aspettavo stavo seduto a un tavolo del refrettorio un qualche compagno mi stava facendo sorridere non ricordo perché no 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 perché me lo ricordo mi stava dicendo che ogni notte il suo angelo custode passava a fargli una carezza su e giù sul ventre con la punta di entrambe le ali mi son girato e il giacomelli ha postato fuori dietro l'anta del finestrone zac mica ci fu un lampo al magnesio capì lo stesso e da qualche parte nel suo album di foto ci devo essere anch'io quindi anch'io devo aver avuto oh mio dio diciotto diciannove anni fermandomi ieri sera davanti al manifesto con preti e pretini svolazzanti nella neve appeso alla vetrina di una galleria che vende fotografie spacciate per opere d'arte beh allora con la sua digitale è un artista anche il capo della sorveglianza la mia persona e ormai a pochi passi da casa mia una delle tante a disposizioni quando non sono a Roma è tutte di proprietà delle varie diocesi perché io di mio non possiedo che respiro dico alle due guardie del corpo più appresso a me di tranquillizzare le altre due dall'altra parte del percorso di sgranchimento giunture ossidate dal sovrappeso con la berlina che viene dietro a passo duomo e di stare fuori dalla porta del negozio bruicante di gente che ingurgita stuzzichini e non resisto alla piccola vanità di entrare non annunciato ignorando le caute rituali proteste del capo scorta ma vostra eccellenza impediamo almeno che prendano scatti loro se non lo gradisce e io in una mostra di fotografie e quelle più vibranti delle rampogne vere e proprie di quell'altra ombra al mio fianco da quasi 40 anni ma questo è alzheimer puro tesoro estenosi andropausale da vene varicose seccate alla radice no fonzi si tira innanz ombra che mi è stata cucita addosso da quando arrivata la licenza papale che mi concedeva di prendere i voti malgrado avessi solo 23 anni si è pensato che la mia strada doveva apparire tutt'altra per essere appieno imboccata al servizio di dio e mi hanno sposato a questa donna immolandomi all'altare della società civile sono passato dalla partita semplice della teologia in quanto facoltà universitaria di perdere forza contrattuale al momento per la gloria eterna dell'ideale ecumenico alla partita doppia della teologia della finanza in quanto facoltà di guadagnarci sopra sempre e comunque ogni costo compreso quello scontato in birilli umani da sacrificare a gloria del senso divino per eccellenza il senso spiccio perché se dio facesse anche in pratica gli sconti che fa in teoria il Golgotha sarebbe ormai un meschino monte di pietà gestito da ebrei e la chiesa ancora una bancarella di cianfrusaglie settarie a una sagra itinerante di ramoscelli d'olivo spruzzati da argento invece noi qui da duemila anni e in particolar modo qui tra le smarrite italiche genti siamo in pratica quello che se la nostra pratica discendesse dalla nostra teoria dell'arma il prossimo tuo come te stesso non saremo neppure per due settimane bancarotta garantita non è da tutti elaborare una fede a uso delle masse il vecchio caro umano popolo bue affinché vi si attengano al punto non perfettibile di credulità da non accorgersi che a noi non ce ne frega un'ostia di niente delle loro fregole in ora mortis o meglio dell'accorgersene ma che lo vogliano o no di esserne complici perdenti su tutti i fronti della loro vita di pratica mentale ed economica e affettiva giustamente devoluta alla nostra per volere di Dio di cui noi abbiamo il monopolio della zecca con l'unico magazzino a costo zero dell'imprenditoria universale perché noi non siamo tutti noi uno per uno siamo i suoi vice qui in terra noi delle altre le alte gerarchie dentro e soprattutto fuori dal Vaticano la proiezione del cielo è democratica il cielo no per conquistare mantenere e imporre un potere in cielo e del cielo occorre la tempra terragna del despota sanguinario prendere o lasciare e siccome nessuno prenderebbe il cielo smenandoci la terra in religione un minimo di coercizione in pianta stabile verso i renitenti e i bastian contrari ci vuole sempre il fendente ultimo non lo dà la spada di un arcangelo ma la spada della politica di un parlamento connivente di una banca centrale connivente di una rete di informazione connivente di un sistema scolastico connivente di una sanità connivente di una borsa connivente di un Thomas de Corte torchemada meno appariscente tanto più operativo l'inquisizione mica è mai finita si è aggiornata e indossa comuni abiti costituzionali niente più cappucci e sai neri e croci infuocate nella notte macchine della tortura e non c'è strega da cacciare che dal calderone non ci versi il suo bellotto per mille a ogni dichiarazione di schifo nei nostri confronti quindi ci conviene lasciarla libera di sbraitare tanto chi l'ascolta anche la pur modesta breccia di Porta Pia con gli ultimi patti lateranensi tra Bettino e noi si è percentualizzata annualmente in modo accettabile non disingrato per noi bruscolini certo ma poi c'è tutto l'indotto se Cesare dà poi a Dio si può anche dare a Cesare quel che è di Cesare io sono una delle punte di diamante di queste alte gerarchie ecclesiastiche fuori che arrotonda il bruscolino di Cesare e sembra un Cesare del popolo ma sono di fatto una porpora della chiesa travestita in grisaglia borghese sono il sottopassaggio a serpentina che scorre ben al di sotto del ponte dritto sono la metamorfosi terrena del celeste Dio uno e trino sono uno e duplice sono io innanzitutto dove non mi si vede e sono sempre altrove e ben di più di come e di dove mi manifesto di più su me non posso dire posso essere un primo ministro un ministro con portafoglio pingue un capopartito un governatore della banca d'italia un proprietario di reti televisive o di gruppi editoriali con ambizioni monarchiche o di colpo di stato ma anche un presidente di regione un giudice di corte d'assise o di cassazione e perché no un semplice patentato banchiere di Dio o il bizantino tramite diffusione con i pochi residuali banchi di credito propriamente di Belzebù un comunista che non vede l'ora di fare il salto di qualità anche un modesto sindaco posso essere però di capitale nei due sensi per capitale poi intendo non solo Roma ma anche Milano Caserta Locri Catanzaro Corleone ovunque ci siano grossi nodi snodi finanziari in ballo non posso essere un giornalista un direttore di banca o di giornale un industriale un armatore un presentatore televisivo un palazzinaro un avvocato o un parlamentare di grido quelli sono dei semplici sottoposti dei caporali per quanto selezionatissimi quelli sono influenti a bacchetta emanazioni del nostro potere sono o non sono a seconda delle esigenze delle opportunità delle contingenze delle cose nostre quelli sono la pioggia o il ciel sereno noi siamo l'atmosfera che li determina io so chi sono e chi non sono senza bisogno che qualcun altro me lo dica e me lo indichi non sono un'identità ancillare un ego a tempo io semmai do l'identità al tempo più resta immutabile più è puntuale che lo resti almeno qui in Italia fuori di qui sta andando tutta la malora porco di io posso inviare al papa stesso un pizzino con sottointeso fin de non recevoir lui amenò fin tanto che io calo denari lui non può rispondermi picche quando mi chiama Fonsi la ucciderei non posso essere per esempio uno che dice quel che fa e che fa quel che dice e nemmeno un cattolico atipico per quanto creso infuso di un tal timor di Dio da garantire una qualche coerenza tra l'operato incomiabile della retorica e quello delle sgrinfie i cattolici che promettono e mantengono quel che promettono mi sgomentano vuol dire che sono usciti dal seminato e invece di limitarsi a promettere illusioni perché altro il popolo bue non vuole deviamo verso i fatti le cose i servizi verso l'emancipazione dalle illusioni a base del nostro magistero stesso il che per noi sarebbe la fine questi fedeli qua cresi o incapienti che siano per noi sono dei manovali alla giornata fanti anche se con i gradi degli ufficiali preziosi sì perché danno quell'esempio che a noi è proibito ma per carità niente di più li premierie premieremo e li faremo santi per l'appunto anche se non saranno stati dei figli di puttana consapevoli di esserlo come piacciono a noi ma poi mortali sti qua sono come quei preti operaio quei missionari che danno la vita per gli altri e che vivono in ristrettezze al limite dell'evangelismo e quindi dell'eresia in effetti come ebbe a scrivere l'innominabile costoro sono i preti peggiori perché con la loro buona opera e la loro caparbia buona fede e la loro esistenza di soli mirabili esempi di dono totale di sé vanno a cementare le sabbie mobili delle cliniche egolatriche palancaie vampiresche gerarchie vaticane ovviamente questo non è il mio punto di vista non del tutto ma è bene sapere che nel frattempo e per la prima volta in duemila anni ne è saltato fuori un altro e nero su bianco quando scrive o da dietro il primo microfono a tiro perché penna parte l'innominabili alla lingua lunga da qui a Voltaire quando va in televisione a fare le sue sparate di Mangiapretti scatenato scalmanato questo suo punto di vista completamente pubblicamente anticlericale e senza mai la minima flessione o concessione anche nei confronti dell'islamismo dell'ebraismo dei valdesi dell'induismo del confucianesimo di scientologi dell'astrologia del superenalotto e simili non solo contro di noi è la prima volta che in Italia salta fuori dal segreto delle alcove e dalle quattro mura domestiche tra i propri cari e dai salotti trasodali di ipocrisia perché lì le critiche non avendo eco esterna e non rischiando niente chi le professa risuonano come le trombe dell'apocalisse tutti ce l'hanno a morte con la chiesa anche la chiesa e non certo perché i siti gay più cliccati d'Italia come si è premurato di sbandierare in giro l'innominabile lo sono entro le stesse mura del Vaticano senza internet non verrebbero alla luce del sole certe statistiche ogni giro di vite che non si dà a questa macchina dell'inferno è un giro di vite dato alla nostra espansione stavo per formulare sopravvivenza grazie ai libri dell'innominabile che lui scrive per chi avrebbe bisogno di leggerli per difendersi da noi e sbaragliarci o toglierci dai coglioni non lo fa ma noi che invece li leggiamo con l'avidità peccaminosa che a suo tempo mi diedero solo i Vangeli Apocrifi e Tex Villar possiamo correre i ripari perché i suoi lettori infine siamo noi i soli rimasti a dare importanza alle scritture in questa landa di analfabeti di andata senza ritorno dove le scuole private non incontrano tuttora quel favore che meriteremmo siamo noi i suoi nemici per eccellenza a suggere il nettare politico delle sue frasi ordinatamente babbeliche e sensatamente profetiche non altri e anche per questo che questa laida sublime pecora nera che si vanta di avere sputato in faccia al prete l'ostia della prima comunione continua a essere lasciata in vita perché ci rivela dove si sta spostando il tempo perché così noi possiamo precederlo e scavargli sotto la prossima trincea per fermarlo al punto di prima e perché infine è al nostro servizio l'innominabile come chiunque altro è un'altra strega presa in contropiede e ricondotta alla ragione per le nostre vie ovvero leggi traverse ma almeno lui ha la sinistra dignità di non volerlo essere al nostro servizio di voler la nostra distruzione e azzeramento totali per la rinascita del paese e dell'umanità di volerlo